Abbiamo trovato l'accoglienza, abbiamo trovato proprio anche un alloggio, un posto dove si può estarci, quindi siamo trovati in casa comunque. Noi stessi ma non guardiamo la mano ai familiari che abbiamo, ci apriamo le nostre spalle. Sono statunque l'anima, la qualità che viene adesso non abbiamo un po' l'obiettivo. Tutti i paesi nel mondo esistono un po' l'obiettivo, un sistema che andiamo con tutti i due che sono devastati. Adesso con voi si sceglie comunque di fare qualcosa di più grande. Anche l'obiettivo è ancora un po' l'obiettivo, anche penso la cittadinanza perché non sono stati bambini, ma sono nati in Italia. Questi bambini oltre adesso non sono conosciuti con l'obiettivo, perché sembra che un altro problema è che l'obiettivo esiguro, ma anche l'obiettivo esiguro è una storia proprio grossa e spero che abbiamo le scelte comunque, voi anche risolverete questo spazio. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.